Ehi, ciao e benvenuto nel mio nuovo video. Se ti interessa sapere che faccio, ti basta schiacciare in descrizione il link del mio profilo Instagram e schiacciare il tasto segui, da blu deve diventare bianco. Un altro modo per supportare in modo gratuito il canale è quello di schiacciare il pollicione all'inizio e il tasto iscriviti. Che aspetti? È gratis. Buona visione! E ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Brawl Stars. Questo qua è un video veramente, veramente bello. Un bug, diciamo, un minigioco all'interno del gioco che tutti voi potete provare in modo gratuito. Vi basterà semplicemente andare sulla vostra selezione di Brawler e andare su Brawler 8-bit, quello che si sblocca a 6.000 coppe gratis nel cammino dei trofei. Una volta fatto ciò, quando a 8-bit vi compare questa schermata, voi schiacciate sopra la testa 5, 4, 3, 2, 1, 0. Una volta fatto ciò, spammate sopra un po', sullo 0, e vi si aprirà magicamente questa pagina, Inbox Brawl Stars. Una volta fatto ciò, basterà andare appunto sulla pagina aperta, vi si caricherà tutto questo insieme di cose, non so sinceramente cosa sia. Brawl Stars Project Laser si intitola ragazzi, Brawl Stars Project Laser, e non si sa cosa bisogna fare sinceramente. Ecco, vi si apre questa cosa qua, Project Laser. Bisognerebbe fare Start Game, e qua ci dirà alcune informazioni sul gioco. Noi schippiamo, perché intanto non sono così importanti. Andiamo a provarlo subito, ma che cos'è? È tipo uno sparatutto? No, bellissimo, bellissimo. Bisognerebbe sparare ai meteoriti? Guardiamo subito cosa succede se spariamo a meteorite. No, no, bisogna evitarli, bisogna evitarli, ho capito allora. Bisogna evitarli e arrivare fino alla navicella questa qua. Una volta arrivati alla navicella, la uccideremo molto molto easy easy nice, uccidiamo anche quello, evitiamo quest'altro, facciamo un po' di così, così almeno, ma questo qua mi sa che è la vita. Sinceramente non ho capito bene cos'è, attenzione tutti i meteoriti. Mi sa che fra un po', ragazzi, avremo, ahia, attenzione a meteorite, ho uno di vita, ho uno di vita, sto morendo, sto morendo, nooo, sono morto. Bellissimo però ragazzi. E ci dice game over, figata. Evil wins again. E niente ragazzi, per questo video è tutto, era molto molto rapido, spero che questo mini tutorial molto molto veloce vi sia piaciuto, se è così condividetelo con i vostri amici, che almeno li fate sapere come si fa a giocare a sto gioco. Noi ci becchiamo in un prossimo video di Brawl Stars, bella ragazzi. Noi ci becchiamo in un prossimo video di Brawl Stars, bella ragazzi.